Si è probabilmente sentito accerchiato dalle polemiche e dopo mesi di silenzio torna a parlare alzando la voce il presidente di Arezzo Fiere, Andrea Boldi. Destinatario di un lungo comunicato, il sindaco Ghinelli che in consiglio comunale, tra le altre cose, aveva detto di avere chiesto ad Arezzo Fiere l'auditorium in cambio dell'Imu non pagata, un'operazione che sbloccherebbe anche il nuovo parcheggio di Arezzo Fiere. Boldi, dalla sua, percepisce il sindaco Ghinelli come una sorta di nemico per lo sviluppo di Arezzo Fiere. Ho accettato, dice, svolto gratuitamente il lavoro per senso di responsabilità e amore per la mia città. In quel momento la società deteneva le seguenti esposizioni economiche, 6 milioni di debito iscritti a bilancio, 2 milioni richiesti dal comune di Arezzo per l'Imu e non accantonati, debiti ancora oggi oggetto, divertenze giudiziarie, lavori da liquidare all'impresa costruttrice per oltre un milione di euro, un milione e due chiesti al comune per la viabilità nonostante le proprie inadempienze e non accantonati a bilancio decine di decreti ingiuntivi da parte dello stesso comune e di un imprecisato numero di fornitori. Il totale quindi dei debiti al 2014 era di 28 milioni di euro, il fatturato di Arezzo Fiere è 3,2 milioni con una perdita di 2 milioni e 8. Oltre all'aumento degli eventi in programma, tale da arrivare alla piena occupazione dei locali attraverso l'accordo sindacale stipulato, abbiamo ridotto i costi del personale di oltre il 25% in 4 anni. Ci siamo aggiudicati il contratto con la pubblica amministrazione che renderà alla Fiera 2,1 milioni di euro. A partire dall'insegnamento di Alessandro Chinelli come sindaco, dice Boldi, mi sono dovuto confrontare con una realtà nuova e imprevedibile. Un socio che pareva e pare avere come unico obiettivo non gli interessi della città di Arezzo e quindi della Fiera, al contrario valutandone l'operato, quel che appare e che egli voglia interrompere il processo di crescita e di ripristino della fertilità economica come dimostra il suo auspicare il pignoramento dei conti correnti dell'ente Fiera. Ho dovuto con impegno impedire che ciò avvenisse fino ad oggi e con lo stesso impegno cercherò di impedire che una misura simile sia assunta almeno fino a quando sarò a capo del CDA e della società. Oggi Arezzo Fiera ha 6 milioni di debito, 6,7 milioni di credito da ricevere sulla base del contratto con Italia N Exhibition Group, si è avviata la procedura di vendita di alcuni immobili di proprietà inutilizzati per ridurre l'indebitamento e regolarizzare la struttura. Il comune non ha mai ceduto il terreno dell'ex campo scuola che avrebbe dovuto conferire all'ente Fiera come da documentazione amministrativa e contrattuale sussistente. Inoltre è mancata la realizzazione della promessa viabilità nei pressi dei locali fieristici, tra cui l'importantissima rotonda di via Fiorentina. L'elenco delle politiche di svantaggio messo in atto dal comune di Arezzo nei confronti di Arezzo Fiera è evidente secondo Boldi, che auspica un governo territoriale più lungimirante.